Buongiorno, dal 1981, ogni anno il 16 ottobre, si festeggia la giornata mondiale dell'alimentazione organizzata dalla FAO. Dal 2006 è stato istituito nello stesso giorno il World Bread Day, ovvero la giornata mondiale del pane, una giornata dedicata al pane al fine di incoraggiare le persone al consumo e a promuovere la cultura del pane fresco. Noi vogliamo parlarvi oggi di un pane speciale che viene prodotto in Val Camonica, a cui viene dedicata una festa ogni anno che sta diventando sempre più importante. Parliamo del L'Opener, il pane nero di segale, e della festa dei panni e del cibo delle Alpi della Lombardia che quest'anno si è svolta il 2 ottobre. Ne parliamo oggi con Fabrizio Zanotti della comunità della Segale e partiamo da qui, Fabrizio, grazie intanto. Grazie a voi. Che cosa è la comunità della Segale? Allora, la comunità della Segale nasce con la festa dell'Opener, ok? Quindi sei anni fa avevamo l'esigenza di comunicare i contenuti della festa dell'Opener e, come dire, quello che ci sta dietro come principi e quindi abbiamo creato, siamo partiti con una pagina Facebook per comunicare appunto. Da qui però la cosa è poi, c'è stata un'evoluzione negli anni e la comunità della Segale ha preso una forma di luogo di aggregazione per agricoltori, trasformatori e più in generale operatori del mondo agricolo e alimentare delle Alpi, diciamo. Quindi nasce in Valle Camonica e poi comunque si diffonde anche in altri luoghi come sono appunto la Valtellina e sta continuando a crescere, tant'è che abbiamo in mente comunque dei progetti per il futuro che poi comunicheremo nei prossimi mesi. Da quattro anni questo gruppo di persone assegna ogni anno durante la festa dell'Opener, che è la festa dei Pagni e del Cibo delle Alpi, assegna una targa a una comunità. Diciamo che intorno a comunità della Segale orbitano diverse comunità che sono riconducibili a dei comuni ma più in generale proprio delle comunità di persone, ok? E abbiamo iniziato con il comune di, con la frazione di Doverio del comune di Corteno Golgi in Alta Valle Camonica, quasi sul confine con la Valtellina, segnando il primo cartello quattro anni fa. Poi c'è stato Malonno, poi Sonico e quest'anno l'abbiamo assegnata a Cerveno proprio durante la festa dell'Opener che si è conclusa nei giorni scorsi. Cosa vuol dire ricevere questo cartello? Diciamo che questo cartello viene assegnato a comunità che si distinguono per la tutela dei piccoli agricoltori di montagna. Cerveno si distingue perché ha una casa museo che è anche una sede dove ci sono le attività del biodistretto di Valle Camonica, che è una realtà molto importante con la quale noi collaboriamo e anche perché da quest'anno apriranno una banca dei semi, quindi un luogo dove in collaborazione con Rete Semi Rurali il biodistretto renderà disponibile a tutti quelli che ne faranno domanda dei propri semi, quindi semi di cereali, cereali selezionati, antichi ma non solo, quindi c'è tutto un lavoro che il biodistretto sta facendo molto interessante sui semi, di cereali ma anche di altri prodotti agricoli del territorio, viene in mente i fagioli piuttosto che altri, insomma. Partite proprio del seme per diffondere sul territorio e creare questa comunità. Dito che parliamo del pane nero di Segale, che si tratta della comunità della Segale, ci puoi parlare di questa cereale che diciamo ha la caratteristica di poter crescere su un terreno molto particolare, quello degli Alpi, come questa cereale poi entra nella produzione del pane nero? Se possiamo fare il legame tra diciamo la cereale e il prodotto? Sì, allora io non sono un agronomo, mi occupo più di comunicazione, però diciamo sono ormai molti anni che giro intervistando e raccogliendo informazioni sul territorio, tra l'altro devo fare una precisazione, mi scuso non l'ho fatta prima, ma con me diciamo lo zoccolo duro degli organizzatori, oltre a me ci sono anche Claudio Furloni e Matteo Astori di Alternativa dell'ambiente della Valle Camonica. Diciamo, noi giriamo ormai. Ti volevo fare una domanda su di loro, come è nata questa avventura tra di voi tre, quindi se voglia già anticipare un po'. La nostra avventura è nata con la festa del pane nero, diciamo che siamo tre soggetti che da anni comunque si muovevano nei territori per via delle nostre professioni, anche incontrando agricoltori e diciamo il mondo agricolo e rurale del territorio alpino. Con la festa del pane nero ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a collaborare e non abbiamo più smesso, diciamo che ci troviamo bene a lavorare insieme. Una piccola comunità tra di voi. Sì, sì, abbiamo anche molte idee che vogliamo portare. Glorire. Sì, sì, insomma. E quindi è nata questa collaborazione. Stavamo dicendo della Segale, ecco ad esempio Matteo è un agronomo, lui quindi potrebbe darvi qualche indicazione più precisa sulla cultura. Quello che posso dirvi io e dalle interviste che noi abbiamo fatto è che la Segale era molto coltivata in passato in questi territori, soprattutto nella zona dell'Alta Valle, perché in quelle aree non poteva essere coltivato il grano, quindi non si poteva fare la farina di frumento tipica bianca che viene utilizzata per il pane. L'unico modo per fare il pane era quello di coltivare la Segale e poi si riusciva a recuperare un po' di farina bianca magari con degli scambi commerciali, quindi si scendevano verso la città portando magari un po' di farina di Segale o altro, magari dei formaggi e così scambiavano e portavano a casa un po' di farina bianca. Però diciamo il grosso della farina utilizzata per fare il pane era ricavato dalla Segale che riesce a crescere anche a quote elevate, quindi anche dai mille metri in su veniva coltivata. E degli anziani che abbiamo intervistato ci hanno detto che c'erano delle coltivazioni davvero molto molto ampie, cioè diciamo le montagne in un certo periodo dell'anno erano ricoperte di Segale dorata e questa serviva per sfamare perché il pane era la principale fonte di energia in queste comunità. Ovviamente. E questo cereale rara diciamo con questo museo di Cerveno lo valorizzate tornando proprio ai segnanti che immagino che c'è anche dietro tutto il progetto il ritorno ovviamente al territorio, alla coltivazione del territorio e ovviamente alla promozione di questo pane nero. Ma esiste una ricetta perché dicevi prima ovviamente non facciamo il pane nero solo con la farina della Segale, mettiamo un po' di farina, farina bianca. Esiste una ricetta unica in ogni paese oppure diciamo c'è un immagino che ogni forno, ogni comunità appunto si creava un po' il suo pane? Sì, diciamo che la differenza è più da comunità a comunità, diciamo che ogni paese aveva la sua ricetta. Ad esempio in Alta Valle si tendeva ad andare verso il 100% Segale, quindi non c'era farina bianca e quindi il pane era fatto completamente con farina di Segale. Scendendo come dire la percentuale diminuisce, quindi se scendiamo nel fondo valle come può essere Darfo, dove comunque c'era anche qui un'ampia coltivazione di Segale, però diciamo veniva mischiata, quindi diciamo che nel fondo valle si sta sul 30% di Segale e nell'Alta Valle si arriva anche al 100%. E poi cambiava anche la forma, diciamo che in alcune zone si tendeva a fare la pagnotta un po' più grande, in Val Camonica si usava poco la ciambella, quella col buco, se non nelle zone che vanno verso appunto la Valtellina, quindi verso l'Aprica, cortinogolgi e quelle zone lì. Cioè diciamo ora sempre la pagnotta. In alcune zone è una pagnotta più lievitata, in altre invece è molto schiacciata e bassa e cambia, quindi anche lì la forma del pane è un'altra cosa molto affascinante perché girando si vedono forme magari simili, ma in alcuni casi però anche molto diverse tra loro. È particolare alla fine, tutta una… Sì, ma per dire che qualcuno faceva la croce, per farla lievitare, in altre invece no… Ho letto di questa croce, ma in Val Camonica si faceva o si fa ancora? Quando voi lo fate? Perché durante la diretta mi sembrava cattiva. Avete anche, come dire, c'è stata anche una promozione di come fare, produrre il pane nero. Che ricetta voi applicate, diciamo, per la promozione del pane nero? La ricetta che noi abbiamo fatto durante la diretta è sul 50% di segale. Abbiamo utilizzato un lievito madre, il nostro maestro panificatore era Claudio Giovanni Zani, che è di Brescia, che appartiene alla condotta di Slow Food e abbiamo fatto più che altro la pagnotta, insomma. Ecco, quindi una pagnotta con classica di segale. Poi anche lì noi abbiamo chiesto alle persone di inviarci le fotografie della loro panificazione da casa e arrivano forme di ogni tipo. Quindi poi ognuno segue un po' quella che è la propria ricetta. Qualcuno magari segue quello che era la memoria di ciò che veniva fatto magari dai genitori o dai nonni. Altri invece inventano. Tanto c'è stata anche una forte partecipazione di bambini grazie ad alcune scuole, ma non solo. Ad esempio, diciamo, più in Valtellina abbiamo avuto due grosse scuole con 40 bambini una e 30 un'altra. In Val Camonica invece è stato più misto, quindi un po' bambini, un po' adulti, laboratori per bambini e per adulti insieme e i bambini ci hanno mandato foto di forme veramente grande fantasia. Cioè, non so, il panino a forma di dinosauro piuttosto che... Ah, creatività go-go. Allora, alla fine il pane come, come posso dire, l'impasto anche come modalità di... Sì, sulle forme aggiungo una cosa che abbiamo scoperto girando nelle comunità, che in passato si usava quando veniva fatto il pane in casa, diciamo, l'ultimo impasto rimasto, venivano fatte delle forme per i bambini. Quindi erano delle bamboline, il bambino fasciato, ad esempio, era molto usato, una forma proprio di neonato fasciato, oppure la bambolina proprio con le gambe, le braccia, che poi veniva dato ai bambini. E questa è una cosa che abbiamo riscontrato in molte comunità, soprattutto dall'Alta Valle. Quindi c'era questa cosa, perché fare il pane comunque una volta era, ed è questo lo spirito, la festa dei panni del Cibo delle Alpi di Lombardia, era un momento di aggregazione. Cioè i forni, diciamo che in Balcamonica non si usavano molto i forni comunitari, come magari in altre zone, come appunto in Baltellina, ma nelle contrade c'erano delle case provviste di forno dove le persone si recavano. Quindi non era un forno della comunità, ma era un forno privato, però utilizzato dai vicini. Quindi era un momento in cui ci si trovava e ci si scambiava quattro chiacchiere, addirittura un anziano un giorno mi ha detto che il forno era il nostro Facebook. Cioè era il momento in cui... La macchina di Balcamonica ha capito in azienda, per dire, nel quartiere. Sì, sì, era il momento in cui veniva condivisi anche i pettevolezzi, piuttosto che quello che succedeva nella comunità. Io leggendo un po' la storia dell'Open Air, della vostra festa, mi sembra aver capito appunto che il progetto iniziale era anche di fare, di riaprire questi forni, questi mulini, appunto per fare rivivere, come dire, la sociabilità, i rapporti con gli altri e creare questa comunità, per quello che è il nome della comunità della Segale Bello, perché è molto potente, è molto simbolico. Dicevamo prima di questa elaborazione del pane durante la festa, dobbiamo specificare che prima la festa avete distribuito dei kit a chi era interessato a partecipare, anche qua diciamo che era un modo di aggregazione, quindi avete distribuito i kit per poi produrre in diretto il pane. Questo progetto della festa, se non sbaglio, è stato anche fatto per riaprire e valorizzare il patrimonio dei forni dei mulini degli Alpi, in particolare per quello che ci riguarda della Val Camonica. Quanti forni avete aperto, quanti mulini avete aperti per questa edizione? Nel tempo sono stati riaccesi, aperti, una trentina di forni in Valle Camonica. Quest'anno sono stati accesi, credo, una quindicina più o meno di forni, perché comunque causa Covid, diciamo, siccome questi forni sono sempre in ambienti molto chiusi, stretti, insomma c'è stata qualche difficoltà. Però diciamo che negli anni abbiamo scoperto più o meno in Val Camonica una trentina di forni e non da soli, mai da soli perché siamo sempre comunque aiutati dalle comunità. Ad esempio Cerveno ha fatto poi un suo lavoro di ricerca dei forni. Diciamo, la festa è stato l'input per far partire questa cosa. Poi le comunità si muovono anche in modo autonomo e trovano poi questi mulini ce li segnalano, scusa forni. Per quanto riguarda i mulini, ci sono dei mulini storici in Val Camonica, ancora funzionanti, e anche loro vengono coinvolti nella festa dell'Opanner. Adesso non te li elenco perché ho paura magari di dimenticarne alcuni, però insomma sono mulini abbastanza famosi qui in valle che ancora macinano. In occasione della festa dell'Opanner vengono aperti, sono visitabili, e anche quest'anno sono stati visitati anche da bambini, anche da scuole, e insomma riscuotono sempre un grande successo perché comunque sono sempre luoghi molto affascinanti e luoghi che in passato hanno dato veramente molto territorio perché producevano la farina che appunto dava il pane e che ripeto era la principale fonte di energia. E si costruiscono ancora oggi dei forni o questa dinamica, diciamo, aggregazione di comunità crea anche dei progetti nuovi? Allora, ci sono dei progetti per restaurare alcuni forni, quindi qualcuno vorrebbe recuperare dei forni. Culturalmente, come dire, si rimarca l'importanza di questi forni. Diciamo che c'è stata una certa fase storica in cui questi forni antichi venivano distrutti perché, come sappiamo, anni 80, 90, soprattutto quel periodo lì, o anche anni 70, come dire, tutto ciò che era passato veniva, come dire, anche cancellato in favore della modernità. Oggi si sta riscoprendo l'importanza di questi forni, quindi prima di tutto, come dire, chi ce l'ha inizia a capire di avere qualcosa di valore e quindi lo tiene bene e non pensa di distruggere. C'è alcuni che avrebbero bisogno di essere ristrutturati, qualcuno sta pensando di farlo e poi sta anche ogni anno c'è qualche comunità che prova a costruirne, magari non come quegli antichi che erano veramente complessi da fare, ma in terracotta. Ad esempio quest'anno c'è una scuola che non è delle Alpi ma comunque ci segue, una scuola della Franciacorta di Capriolo che ha costruito un forno in terracotta, una scuola Montessori che ha messo come attività la costruzione di un forno in terracotta e poi ha fatto il pane con noi il giorno dello pane nero. Questo lavoro anche, diciamo, educativo al mangiare locale, al mangiare sano, perché dobbiamo ricordare che anche il pane nero di segale ha delle caratteristiche a livello, come dire, della salute è molto molto positiva e molto potente. Assolutamente, io non sono esperto, posso dire che però tutte le farine che usiamo noi, che distribuiamo noi, sono farine locali e sono tutte biologiche, anche quando non hanno magari il marchio biologico, perché magari alcuni piccolissimi produttori non hanno ancora fatto quel passaggio di essere certificati biologici, però sono nei fatti più che biologici. è tutta macinata nei mulini a pietra. Anche lì, insomma, negli anni sono stati fatti molti passi in avanti sulla qualità proprio anche della materia prima. Diciamo che le farine locali negli anni, noi abbiamo visto in sei anni, hanno fatto dei passi da gigante nella qualità. Oggi sono farine di altissima qualità. Sei anni fa magari erano le prime che venivano fatte e c'erano alcuni passaggi che non venivano magari rispettati alla perfezione, perché parliamo di piccoli agricoltori. Però il fatto di fare rete tra di loro, anche grazie al biodistretto e tante realtà, ha fatto sì che ci fosse un approfondimento anche sulla salute alimentare. Quindi sono farine che ricevono tutto un trattamento di pulitura della granella prima della macinatura, per cui sono farine di altissima qualità e anche sicure. Prima del lievito madre, ovviamente voi usate il lievito madre, ci sarebbe un'alternativa in quello del lievito di birra, ma che nel caso del Plupaner non è, come dire, consigliato. Come, con che tipologia di lieveto voi elaborate il pane? Allora, noi nelle feste usiamo il lievito madre. Per la ricetta che abbiamo fatto online abbiamo utilizzato il Licoli che è un lievito madre più liquido, perché secondo il nostro maestro panificatore è più pratico da utilizzare perché richiede meno rinfreschi ed è più facile da tenere a casa. In una comunità ad Arfoguario Terme è stata data la possibilità di scegliere fra il lievito madre e anche il lievito di birra, perché se qualcuno avesse voluto avere una lievitazione più veloce, siccome non siamo, come dire, dei puristi, se uno vuole usare il lievito di birra, voglio dire, lo può utilizzare, non gliene facciamo una colpa e va bene. Noi preferiamo usare il lievito madre perché era il lievito della tradizione, anche lì abbiamo raccolto molte testimonianze interessanti, una su tutte, in una piccola comunità dell'Alta Valle, una signora anziana di 90 anni ci raccontava che il lievito, lei si ricorda da bambina, veniva passato di casa in casa, quindi non c'era un lievito di una famiglia, ma veniva passato di casa in casa, cosa che oggi ovviamente non si potrebbe fare e magari neanche lo vorremmo fare, però era così, per tenerlo sempre fresco veniva passato, quindi oggi faccio il panno e tengo io il lievito, domani te lo passo e lo fai tu, così questo lievito si arricchiva di tutta una serie di... E anche il fil rouge della comunità e dei paesi locali. E quest'anno questa edizione che si è sviluppato nel contesto più ampio della festa anche del cibo delle Alpi di Lombardia, ci sono stati qualche novità sulla sesta edizione? Diciamo che come giustamente dicevi prima, la festa nasce come momento di accensione dei forni antichi, quindi sei anni fa l'obiettivo era quello, trovare i forni, farli accendere e quella era la festa. Poi si è convinto anche a panificare, quindi si è iniziato a fare il pane. Oggi, dopo sei anni, questa festa ha preso una dimensione più ampia e quindi include, oltre ai forni al pane, il patrimonio alimentare alpino, che tra l'altro la regione Lombardia sta anche svolgendo un'attività per farlo diventare patrimonio dell'umanità UNESCO, perché comunque dietro alla dieta alpina c'è tutto un mondo che merita di essere conosciuto e raccontato. E quindi noi nel nostro piccolo quest'anno abbiamo voluto spingere un pochettino su tutto ciò che va oltre il pane, quindi abbiamo aggiunto, come dire, momenti di riflessione e anche di degustazione, quindi anche piacevoli, di prodotti alimentari alpini che vanno dal salame alla bresaola ai formaggi di alpeggio e tutto ciò che rende famosa la dieta alimentare alpina. E' sempre accompagnato del pane nero, ovviamente. Assolutamente, il pane è sempre al centro della tavola perché comunque quello è il suo ruolo, il pane è il re della tavola. Intorno abbiamo voluto aggiungere una serie di prodotti che merita, che sono anche fonte di sostentamento per i piccoli agricoltori, quindi noi la vediamo così, è importante per noi, diciamo, credo che la cosa più importante per noi sia promuovere questi piccoli agricoltori. Parliamo di realtà veramente molto, molto piccole che però rendono viva la montagna perché senza di loro avremmo solo bosco che avanza, che per quanto il bosco ci possa piacere, però vuol dire togliere spazio all'uomo perché quando il bosco avanza poi toglierlo è veramente complicato. Noi abbiamo dei terreni con dei terrazzamenti secolari che sono stati fatti con grande fatica da chi ci ha preceduto perché la terra in montagna è stata strappata proprio al bosco e a pendì che non erano coltivabili, quindi sono stati fatti terrazzamenti proprio per questo, tutto a mano e tutto con fatica. Abbandonare quei terrazzamenti vuol dire che nel giro di 3-4 anni il bosco avanza se li prende e poi non è più possibile recuperarli perché ormai più nessuno sarebbe disposto a mettere così tanta energia e così tanto tempo per recuperare quei terreni come era invece stato fatto in passato. nella comunità della Segale. Come scusa? Nella comunità della Segale appunto. Sì sì sì. Fabrizio grazie. Non so se hai qualcosa da aggiungere su quello che riguarda un po' la festa, il pane, se no ti propongo di concludere con qualche domanda più personale sul tuo percorso. Va bene. Mi fa un po' paura personale. Allora, ovviamente noi abbiamo un po' l'abitudine con ogni ospite di fare tre domande. La prima è il primo sapore di cui ti ricordi. Oddio così bruciapelo. Il primo sapore che mi ricordo non saprei però c'è un piatto che abbiamo riscoperto quest'anno con la festa dello Panner che per me è un ricordo molto molto antico quindi mi ricordo quando ero bambino che lo preparava mia nonna ed è il pane cotto. È un prodotto, è un piatto che ormai viene fatto veramente poco ma che in passato in tutte le case veniva fatto. Quindi era il recupero del pane raffermo che veniva cucinato con del brodo e formaggio e della salvia se non sbaglio ed era un piatto semplicissimo ma che io ricordo come squisito e chiunque l'ha provato da bambino ti dirà che è un piatto squisito quindi questo è un piatto che sicuramente ricordo. Mi viene in mente questo perché l'abbiamo fatto. Ho deciso di rilanciare allora stai con il pane con lo Panner ovviamente. Sì è un piatto che abbiamo rilanciato sì sì pancotte. Pancotte. Tra i cinque sensi per te qual è il più importante? Non saprei direi che sono tutti importanti. È il sesto senso per me è quello più importante ma sì l'olfatto è sicuramente per me un senso molto importante ecco, credo, ti direi quello poi sono tutti importanti ma ti direi quello sicuramente quando, se parliamo di cibo lo ritengo lo ritengo importante hai un cibo consolatorio? ma, ai meno tanti nel senso che mi consolo molto col cibo, anche troppo banalmente ti direi la cioccolata e sicuramente il cioccolato è uno dei primi diciamo che sono uno che apprezza il cibo e apprezzo molto il cibo di montagna, quindi sicuramente mi piacciono molto i formaggi i formaggi dal peggio e qui ne abbiamo tantissimi i salumi anche mi piacciono sei un eccellente ambassatore della festa del cibo delle Alpi allora sì, sì sicuramente sono dei prodotti che per chi come a me li ha vissuti da bambino come dire portano un sacco di ricordi e li trovo estremamente interessanti Fabrizio Fabrizio ti ringrazio mille di essere stato con noi per il quinto e un quarto e speriamo vederci per la settima edizione allora assolutamente sì grazie ciao grazie 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 Grazie.